Sono tre punti, quindi valgono tre punti, come variavano i tre punti con la Ternana, come vareranno i tre punti prossimi a San Benedetto. Dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere prima i traguardi prefissati. Piccioni, per scelta tecnica, è rimasto fuori. Puccini ha dato tantissimo per questi colori, quindi va ammirato e apprezzato per quello che ha fatto per questi colori. Oggi per me la sua situazione mentale non era quella più d'ore perché ha ricevuto troppe critiche, magari ha subito. E' giusto che non si esponesse ancora, anche perché se era per me giocava dall'inizio. Abbiamo fatto una buona gara, ma anche altre volte con la Triestina abbiamo fatto un'ottima gara. Infatti avete vinta. E quindi? Anche a Pesero e anche a Verona abbiamo fatto una buona gara. A Terni no? A Terni, ma a Ternana è molto forte. Lei ha preso questa squadra in clamorosa difficoltà, adesso sembra proprio un'altra squadra. Sì, sì, ottimo, ottimo, ottimo. Bene, sono molto felice, è inutile nasconderlo. Quindi adesso pensiamo a recuperare energie e calciatori per iniziare il prossimo anno con un piglio molto importante per fare più punti possibili. Si riposa anche Maurizio? Eh? Si riposa anche Maurizio un po'? Beh, difficilmente. Noi, chi fa questo mestiere riposa poco, perché magari finisce un'attività sul campo e inizia un'altra parallelamente fuori. E il mercato? Eh, appunto, dicevo questo. È un classico nel calcio, quando pensa di avere in mano la partita, poi arriva il gol degli avversari, è quello che è successo oggi alla sua squadra? Sì, è un classico e non dovrebbe succedere. Dovrebbe succedere se sei una squadra che punta alle alte posizioni. È evidente che io faccio un'analisi più ampia, no, della partita. Io devo dire che il termo, dal punto di vista dell'agonismo, forse ha avuto qualcosina in più di noi a livello di gioco, di occasioni create. Noi abbiamo fatto un'ora importante, dove credo che il loro portiere li abbia tenuti a galla. E nel momento nostro migliore siamo riusciti a prendere gol, è una situazione abbastanza leggibile. Noi non siamo una corazzata che si può permettere di lasciare a casa Costantino. Per me è Costantino un giocatore importante che in 18 partite ne ha giocate 12 da titolare. Non è che Costantino non abbia mai giocato, ha giocato 12 partite, le altre è sempre entrato. Quest'anno rispetto all'anno scorso ha avuto un po' più di concorrenza, perché comunque Decenco è un altro buon giocatore che ha fatto 5 gol, quindi voglio dire ci sta nel calcio. I discorsi contrattuali a me non interessano, è un giocatore che è in scadenza e quindi probabilmente si sarà guardato in giro e questo fa parte del calcio, ho giocato a calcio anch'io, quindi ci sta tutto. Se io avessi avuto oggi a disposizione Costantino l'avrei usato e l'avrei usato anche volentieri, quindi non c'è nessun caso da parte mia assolutamente. Però lei una parolina per trattenerlo la spende, la spesa la spenderà? Sì, però lì ci sono discorsi diversi, è evidente che Costantino se andrà via deve essere rimpiazzato, questo è una cosa logica. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto tanti gol e quindi ha anche giustamente delle pretese contrattuali importanti. valuterà lui, la società, che cosa fare. Io mi accodo, sono spettatore di questa vicenda, fino adesso Costantino comunque con me si è sempre comportato bene e non ho niente da dire. Quando è stato chiamato in causa ha sempre dato tutto, al di là poi delle prestazioni che può aver fatto più o meno bene, ma io ho semplicemente sempre guardato il campo e ho sempre salvaguardato la mia onestà intellettuale. Grazie.